Salve a tutti ragazzi, bentornati, anzi benvenuti, anzi ben qua, ben ciao Buddy, come stai? Facciamo esplodere le case! Allora, Buddy, io, no, questo è tutto mio, Buddy, è mio questo, tu sei dall'altra parte del muro. Dimmelo prima. Tutte queste sono mie, ma perché sei nella mia zona, ma vai via, devi andartene. Ma guarda, ma me ne vado in questo modo, ok, perfetto. Allora, praticamente. Non si può rinascere, eh? Sì, si rinasce però e torni qua, respawno un attimo. Ok, eccomi, ciao Buddy, vai dalla tua zona veloce. Noi dovremmo sfidarci a colpi di canoni di TNT, sei pronto? No, non sono per niente pronto, ma adesso andrò a fare le cose. Non lo so fare, ok? Aspetta, ma fammi spiegare, questo è il mio nucleo, io devo bardarlo e dobbiamo distruggere, sì, suggeriamo quello d'avversario, abbiamo vinto. Buddy, non toccare, lascia, ho preparato tutto per bene, non distruggere le mie cose, lascia, lascia. Ho il cappello natalizio, non posso, dai, su. E va bene, tieni la mia testa. Qua ci staranno tantissimi minerali, diamanti e oro. Sai che sei bellissimo, Buddy? Ok, beh, oddio, avrei qualche dubbio. Io vado, eh, cosa succede? Allora, se noi troviamo dei diamanti o dell'oro, terremo dei punti. E poi, comunque, non devi picchiarmi. Con quei punti possiamo comprare le cose per bardare il nostro nucleo. No, guarda, non so stato, va, oddio, guarda, io, a me sembra un po' esagerato, comunque, tutto ciò. Non potevi mettere anche dei diamanti, che era più carino, no, eh? Ci sono diamanti e oro, però dobbiamo trovarli. Dobbiamo trovarli, non è che... Non è che li hai messi a livello 12? Non c'è un livello 12, siamo in cima al mondo qua. Ah, eh, cavolo. E basta, mi fatti dirmelo, però, eh, non ho capito. Allora, ho preparato le cose per bene, ti staccarmo, mi sembra un po' agitato, te. Allora, X-Ray attiva. No, dove cavolo sono le cose? Non puoi attivare le hack, Badi, ti prego, dai, abbiamo appena cominciato, non attivare le hack. Beh, senti, allora, ho trovato più occhi di diamante, dieci punti per loco. Dove sei? Dieci punti per loco. Dai, io non trovo niente, no, ma tu è barato, tu sai dove sono, è palese questa cosa. No, no, sono messe, sono messe completamente a caso, Badi. No, no, sai dove sono, tu sai dove sono, non l'hai fatto con Word, tu sai dove sono. Sono messi a caso. Adesso, se ne trovi un altro è barato. Ma non è vero, sto scavando completamente. Se ne trovi un altro è barato. Sono arrivato alla bedrock. Vabbè, anch'io sono risosso, loco. No, tu sei là in cima, ti vedo lì in alto, Badi. Stai scendendo anche te. No, mi ero bari diamante, Badi, dove sei? Badi. Cosa vuoi? No, Badi. Badi, ma perché tu hai rotto quel blocco, non ti ha dato i punti, scusa? Allora, ti posso spiegare. Badi, cosa stai facendo? Non te lo dico. Dai, Badi. Lo scoprirai poi alla fine, però mi devi dare punti per punti. Ma stai barando, ma stai barando, ma c'è non ti doi punti, stai barando, Badi. Allora, barando è un'altra cosa, cioè, questo non mi sembra barato, questo mi sembra essere più intelligenti e giocare correttamente bene. Ecco, come più, ma mi prendi in giro? Cosa stai facendo esattamente per non farti tre punti? Ehm, non è niente attivato all'X3. Allora, dicevamo, comunque, bello, benvenuti in questo video di LocoLokis. Eh, progetto. Come lo abbiamo, Loco, ancora? Però, è 30 secondi. Come 30 secondi? Dai, non vale 30 secondi. Ah, adesso ci do io, non mi interessa. Ma se c'hai un pezzo di diamante, cosa fai in 30 secondi? Eh, facciamo di più, va bene. Oh, 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 vai via, vai via. Già li hai presi tutti, schifoso che sei, ma che peccato, ma che peccato. Ma, che peccato, 20 punti solo? No, non è che stai citando pure tu? No, no, io non cito mai, non ho mai citato in vita mia, infatti se lo faccio te. Allora, Buddy, questa cosa non la sa, perché... Che cosa? Niente. Guarda che sono dietro di te, Loco. Io ho creato tutto, però diciamo che ho barato anche io, Buddy. Va bene, ho barato, ok? Io sto barando, guardate, ragazzi, io faccio così. No, finalmente lo diciamo. Bisogna, è giusto dirlo nei video, Loco, fa schifo e bara. Io non baro, Buddy, io non barerei mai in vita mia. Comunque mancano 10 secondi e tu hai 0 punti ancora, quindi non potrai bardare, Buddy. C'ho 4 blocchi di diamante. Come, dove hai citato, Buddy, hai citato, ho citato io, ma citato anche te, dai, non vale. Ma ne ho 5 adesso, guarda, li sto trovando. No, va, 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 va bene. Li sto trovando. È tempo finito, tempo finito, va bene? Ormai non puoi più... Stai, Buddy, ti vedo, stai, sta fermo, Buddy. Allora, Buddy, io ho fatto 80 punti. Dai, cacchetta, quanto valgono questi 5, su? Quanto valgono, dimmi. Hai solamente 50 punti, te va bene? No, ne voglio anche 80. Adesso me ne do 80. No, non puoi, non puoi. Dove sono 80? No, non puoi fare, stai, va bene, ti do 80 punti. 80, perfetto, ecco a te, Buddy. No, io leggo 50. No, io leggo 50. Possiamo iniziare, perfetto. No, con leggo 50. Oh, che peccato, ho sbagliato. Allora, io mi prendo tutte queste cose, mi prendo solamente la handstone, faccio con calma, perché sennò ho proprio di baggare tutto là. Quanto serve per bardare? Vado in negativo. Buddy, cosa stai facendo esattamente? Niente, niente. Non posso prendere sopra 50, perché hai baggato tutto, Buddy. 45, 46. Buddy, hai baggato tutto. 48, 49 e 50. Sono pari, Loco, meno 50 più 50, vedi? Hai baggato tutto, come hai fatto a baggare tutto, Buddy? Adesso mi metto in negativo. Perché hai due nomi? E perché è presente quando uno dice che ha più personalità nella sua vita? No, non lo so e non voglio saperlo. Quello è il mio caso. Ecco, io non... Ah, mi bardare. Si prova il nucleo e non lo posso coprire. E come faccio? Io non... Devi bardarlo, Bard. Non è che se voglio tanto, lo dobbiamo bardare anche sopra, quindi devo salire. Ma quindi posso utilizzare, cioè, nel senso, se io finisco i materiali... Questo è il mio bard. È bellissimo. Il mio bardo? È il mio bardo. Devi buttare il piccone e possiamo iniziare a costruire il nostro canone di... Sì, ma ti dedica... Io non ho ancora finito di bardare, scusami, eh. Tu non hai finito, io ho già finito e incomincio, va bene? Quanto ti spacchererà la testa. Devi stare calmo, Buddy, mi siamo agitato. Allora, voglio fare un canone di TNT classico per poterti distruggere completamente, Buddy. Io non so fare i canoni di TNT, te lo dico. Come non sai farli? Ti ho invitato apposta perché pensavo che tu sapessi farli e non sai farli, Buddy. Beh, certo. Cioè, tu stai pensando con uno che è già tanto che riesce a far funzionare Minecraft e non citta come te e ti fa i canoni di TNT, vabbè. Io che cito? Io non ho mai citato in vita mia, Buddy. E se tu non hai citato in vita tua e io sono una città nell'India. Cosa? Buddy? Buddy, non ha mai cercato Buddy in India? No. Ragazzi, cercate Buddy in India. Il mio canone è pronto, la TNT è all'interno, vediamo. Anche io, amico, ho fatto un cannone gigante. Eh, ho tolto l'acqua. È male così, devo dire, però, comunque... No, Buddy, vai tranquillo. Allora, facciamo una così. Facciamolo partire, vediamo se funziona. Ma come farlo partire? Ma il muro non si toglie, eh? Il muro si toglie con i canoni di TNT, Buddy. Ma dove cavolo vivi, scusami? Non c'è abbastanza potenza. No, non va per niente bene questa. Buddy, dobbiamo togliere noi il muro. Ma sì, allora, facciamo così, guarda. Il muro è fatto apposta per... Cosa stai facendo, Buddy? Ma non c'è WorldEdit qua dentro! È certo che non c'è WorldEdit. Buddy, stai volando! No, non sto assolutamente volando, non... Allora, se devo aspettare... Mi esploso tutto da solo, Buddy! Ho fatto un casino. Vuoi una mano? No, spieghi se vuoi una mano. Mi spieghi perché sei qua da fai, Buddy. Allora, fai così, dammi la TNT, guarda. Dammi un attimo la TNT. Buttamela qua. E dammi anche un acciarino. Non c'è l'acciarino, ce l'è... Ah, beh, ho capito, faccio così. Buddy, mi spieghi cosa stai facendo. Sto velocizzando il processo di uno che non è capace a fare un cavolo di cannone per distruggere tutto. Ma dobbiamo distruggere... Non si attiva così a TNT. Ora si è attivato, ok? Ma perché gioco con gli stupidi? No, giochi con le pigne, è diverso. Ok, ora ci siamo quasi, eh? C'è ancora un po' di sabbia, mi sa. Io ti guardo mentre... Ti guardo. Buddy, mi spieghi perché stai facendo sta cosa? Era una sfida seria. Guarda, si è aperto. Ora puoi ammirare il mio cannone. Dov'è? Non c'è? Eh, no, è di qua. Ma cos'è quella cosa? Eh, ma pensavo... Ti prego, attiva la. Attiva la, Buddy, voglio vedere in azione. Per favore. Ho guardato un tutorial, l'ho guardato. Vediamo. Bel tool... Beh, sicuramente non devo ridere perché anche il mio fa un po' schifo. No, 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 ho sbagliato! Aiuto! Vabbè, tanto sono in... Buddy, sono pronto, ho provato a fare qualcosa di... Andiamo un attimo. Perché stai volando, Buddy? Sto cercando di costruire un cannone, non sono capace a farlo normale. Figurati, se l'hai già in creativa... Prendi questo! Sto sapendo. Non ti è arrivato niente, niente ti è arrivato. Devo... Sei proprio un'ambo. Devo fare qualcosa di ancora più potente, mannaggia. Una volta, Buddy, sono pronto, tu stai pronto col tuo... Sì, dammi un attimo. Beh, no. Hai messo l'acqua, non vale mettere l'acqua sulla sua bardatura. Ah, e... Non... Ah, beh, diciamo che non lo sapevo. Mamma mia, Buddy, guarda, cosa ti faccio. Guarda cosa ti faccio io, ora, guarda qua. No, ti è quasi arrivato. Guarda. No, cos'è quella cosa, Buddy? Bello. Ha funzionato in parte, allora, devo solo regolare il timer. Allora, guarda, Buddy. Uno. Due. Ma stai zitto, cioè, sto... Arrivano, Buddy, stanno arrivando. Troppo in alto. Io non vedo... Ti è arrivato, ti è arrivata. Sì. Adesso, Buddy, guarda, ti arriva tantissimo in bocca tutto insieme. Guarda, guarda. Addio, Buddy, è l'altra fine. Mannaggia, Buddy, cosa ti faccio? Allora, adesso vengo lì da te. Allora, ci voglio fare un blocca. Dammi un attimo. Allora, così. Ma ti senti tutto lì su? Allora, così. Buddy, ti esplode tutto. Io ci ho provato almeno, non come te. Anch'io ci ho provato e l'ho fatto. Guarda, adesso... Guarda, mamma mia. Ti metto tante di quelle TNT che non ho idea. Vada. No, adesso non lo fa. Io metto in su, vada perché non cito. Guarda. Uno, due, tre, quattro. Quattro TNT? Eh, no. Mi hai preso. Mi sono preso anche da solo, Buddy. Vuoi togliere l'acqua da quella cosa che non posso scopirti? Ma no, ma ti devo spiegare una... Cioè, dovresti sapere una cosa che è meglio che tu non sappia. Cosa stai facendo, Buddy? Questo dovrebbe essere un guido serio. Ti sto togliendo l'acqua perché io ho avuto un piccolo problema, no, prima. Quale? Il mio nucleo non c'è più. E' esploso con il primo cannone che ho provato. E quindi... Era coperto per... Cioè, insomma, capito? Non... A me... Allora... Ok. A posto, no? C'ho il nucleo ancora. Aspetta, continuiamo la sfida. Buddy, questa... Dimmi. Perché hai fatto un albero? E la mia protezione? Io non ho parole, dite, questa è la mia nuova invenzione. Se non funziona... Cosa è sta roba? Allora... Salve. Se mi esplode da solo la base, non devi toccare niente. Se mi esplode la base... Ho bagnato! Aiuto! Addio base. No, 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 no. Stai calmo, Buddy. Non devi mettermi alberi. Mentre che è meglio con un alberi. Funziona! Guarda, funziona! Funziona! No, no, no. Loco, esplode tutto! No! 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 Bravo, Loco! Bel video! Ciao a tutti! Perché ho deciso di fare questi video con te? Anche se io non sono capace a fare dei cannoli te letti, va bene? Non va bene? Tutto esplode tutto, completamente distrutto, andato per sempre! Non esiste più niente! Tutte la tua isola distrutta! Anche la mia è distrutta, però... No, no, non guardate! Il mio nucleo è ancora vivo! Taglia, non lo taglia! Ragazzi, se c'è stato un taglio e mezzo al video è perché non posso farvi vedere cosa ha fatto Buddy. L'hai tolta, Buddy? L'hai tolto? Guarda qua, aspetta, guarda! Ok. Ho vinto. L'ho distrutto prima io. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Non farò mai più video con Buddy, perché ogni volta che faccio qualcosa con lui finisce sempre male. Quindi, spero che questo video vi sia piaciuto. Grazie a tutti per essere stati. Cosa si dice, Buddy? Kawabonga.